Io penso di non aver fatto nessun errore, quindi credo che comunque anche nelle esperienze negative la forza di un uomo è quella di trovare, se è uno vero, di trovare qualcosa che serva a migliorare se stesso. Essere pacati per esempio anche nel rispondere, non essere, farsi portare dall'animo, dai sentimenti che hai dentro. E' ovvio che ricordate quando io feci una conferenza stampa all'inizio della 7, scesero le lacrime, perché per me andare via dall'azienda, dalla RA in quel modo era stato qualcosa di... Se un uomo piangi, io non penso che un uomo che pianga debba avergognarsi, anzi vuol dire che non è arido, però raccontava una sofferenza, nonostante io fossi approdato a una rete che capiva che bisognava investire sull'informazione, eccetera. E quindi era una situazione positiva in tutto sommato. Dentro di me rimaneva il dolore di questa cosa. Oggi è diverso, oggi è diverso, qualcuno mi ha chiesto mai una rivincita, ma no, la vita è questa ragazzi, si passano momenti difficili, anche voi avete avuto dei direttori che vi hanno messo un po' in castigo, tra virgolette, vi hanno fatto fare meno pezzi, li ho vissuti anch'io. Io credo che oggi sia importante avere un grande equilibrio dentro l'anima. E per quello che io sono stato lontano per un certo periodo, non ho fatto una intervista per molti motivi, ma perché credo che certe cose, prima per essere sereni di recuperare te stesso, ho ascoltato il pensiero di Minoli, mi ha detto vattene, esci fuori da tutto, vai in un'isola sperduta, dove vuoi, ma stai lontano. Per trovare un equilibrio. È ovvio che quando chiudono un programma importante, hai del dolore, eccetera, ma il dolore soprattutto per i 30 ragazzi che sono stati sbattuti da un giorno all'altro fuori, non è una cosa per... Io ho le spalle larghe e trovo che per un paese democratico certe cose non debbano mai accadere. Ci ho detto, oggi viviamo un'avventura diversa e di cui io sono orgoglioso. Quando io sono rientrato a piedi, ho voluto calcare tutto il palco a piedi da solo, una sera, senza che ci fosse nessuno, me ne sono andato lì a farlo. Questo è riappropriarsi del luogo in cui sei nato. Quindi il mio animo è estremamente sereno. Non ho nessun timore di affrontare nuove sfide, ma sono sempre sfide. Ricordiamoci che è sempre solo televisione in questo caso. Punto.